... Cerca e trova il compagno. La conclusione al volo. Rete inutile. Forse si è dimenticato il fatto che valgono solo... ...fione. Cross in area. Occhio a traversone. Palla in rete, ma tutto inutile. Doveva metterla a tappa alla soluzione centrale. Palla vagante. Occhio al corner. Che gol fantastico. Ho trovato la rete con una volée spettacolare. Portiere sorpreso su questa conclusione. Da rivedere. Alla meglio nell'uno contro uno. Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio. Niente gol qui. Valgono soltanto le reti al volo o di testa. Vittoria ottenuta davanti ai propri tifosi. Una vittoria di misura che sottolinea... Possono passare in vantaggio. Fino alla fine. Vuole il secondo palo qui. Colpo di testa che stava per trovare il bersaglio. Conclusione solo... Cerca il cross profondo. E finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Non può sbagliare da lì. Non ha colpito male di testa Maltz. Così può bastare. Importante vittoria. Fuori casa dunque. Vuole un pallone lungo. Porta palla il boro. Cerca il cross profondo. 1-0. Eccolo. Finalmente il gol che sblocca il risultato. Guardi. Prova il cross a testa alta. Un gol bellissimo. Accalciando di prima intenzione. Traiettoria fantastica. E possiamo rivedere il gol da queste immagini. Da sottolineare. Intervento così, così del difensore. Pallone importante per provare a riaprire la gara. Non un gran che qui ritorna. Cross in area. Interviene bene sul cross. Si libera dell'avversario. Palla alta sopra la traversa sugli sviluppi del cross. Cerca il cross profondo. Grande intervento del portiere. Solleva la testa. C'è il cross in area. Occhio. Interessante. Ha cercato l'angolo e per poco non faceva scelta. Occhio al cross nel mezzo. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicura questo. Ma reagisce. Splendido lancio. Attenzione qui. Conclusione fa. Come provano a trascinare la propria squadra verso il gol. Occasione, Pier. E c'è la rete. Passa l'invantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte. Dovranno farselo bastare. E riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto. Se vogliono ciuffare almeno il pari. Occhio può crossare. E c'è il gol. L'hanno fatto subito. Un'altra difesa. Evidentemente ancora sotto shock. C'è il segnale di chiusura. Tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Una vittoria netta, limpida. Giunta al termine di una prova di grande qualità. Di grande sostanza. Il risultato non è mai stato davvero in discussione. E hanno dimostrato poi i fatti. Di essere la squadra più forte oggi. Il risultato non è mai stato davvero in discussione. Perciò è stato davvero in discussione. Perciò. Perciò. Grazie a tutti.